Buongiorno, ben trovati con le breaking news da 100 ore 16, tandem femminile ai vertici della CNA Alto Ferrarese, Raffaella Toselli, imprenditrice di Cento, la Presidente, Vice Valeria Balboni di Sant'Agostino, ad affiancare il nuovo consiglio direttivo composto dagli imprenditori CNA Riccardo Barbieri di Vigarano Mainarda, Marco Boccafogli di Poggio Renatico, Hermes Capiluppi di Cento, Nicola D'Andrea di Bondeno, Stefano Ferrari di Cento, Andrea Negrini di Bondeno e Marco Pedini di Sant'Agostino. E parliamo adesso di Gavello, frazione di Bondeno, perché sabato 10 ci sarà la giornata di prevenzione sul sisma. Nell'ambito delle iniziative proporse dall'assessorato alla protezione civile, da un'idea di Serena dall'olio e con il contributo di Ikea e Consorzio Pammigiano-Reggiano, si terrà nella frazione di Gavello una giornata di prevenzione sul sisma rivolta all'intera cittadinanza dagli adulti ai bambini. Questa è l'ultima notizia per queste breaking news delle ore 16, restate sempre collegati con noi, buona giornata!